E' finalmente arrivato il periodo più bello dell'anno dove si possono preparare delle buonissime insalate piatti unici. Allora nella mia insalata io ho utilizzato degli agretti, del songino, dei pomodorini, datterini, del sedano, poi ho grigliato un petto di pollo, l'ho fatto a striscioline e l'ho aggiunto. Ho messo del primo sale e dei piccoli pezzettini di pane tostato, il mio pane preparato con farina di tipo 2 e licoli. Poi ho fatto una citronette con limone, olio e sale. Ho sbattuto bene bene e l'ho aggiunto all'insalata. Poi ho preparato una bella grossata mortica con crema pasticcera, fragola e panna. E ho messo tante foglioline di menta che, secondo il mio gusto, stanno benissimo con le fragole. E questa è la nostra cena.